Oggi voglio farti un paio di domande scomode perché sono quelle domande che spingono in qualche modo a riflettere. Sono sicuro che le tue giornate siano strapiene e tu non abbia tempo di fare nulla e hai qualche sogno nel cassetto o qualche progetto magari che vuoi fare che purtroppo stai rimandando che sta richiedendo molto più tempo del previsto. Oggi voglio portare la tua attenzione proprio su questo, sul fatto del come riempi le tue giornate. Perché ti rendrai conto che per raggiungere gli obiettivi che hai in mente o in ogni caso nella vita tu hai delle priorità, hai qualcosa a cui dai veramente importanza o qualcosa che vorresti fare, che ritieni importante ma a cui non dedichi tempo. Ecco, ti rendrai conto che spesso dedichi tempo a cose inutili che potresti completamente ignorare, in qualche modo delegare e non dedichi attenzione e tempo alle cose invece che per te sono importanti. Quindi rifletti sulla settimana appena passata, su quello che hai fatto e pensa davvero a come hai usato il tuo tempo. Cosa hai fatto? Magari hai lavorato su un progetto che, sì, gli hai dedicato tempo ma di fatto non era importante o era molto meno importante rispetto a ciò che a te interessa davvero. Oppure hai sprecato tempo in cose inutili che non ti hanno aiutato proprio in cose che avresti potuto tranquillamente fare meno di fare e per questo non hai avuto tempo per cose più importanti. È un'analisi abbastanza semplice ma purtroppo, a tante persone, io sono tra quelle, purtroppo sono soggetta a questa cosa, sto lavorando per migliorare, però mi rendo conto che spesso riempio le mie giornate con attività inutili. Quindi ho alcune cose importantissime che dovrebbero avere la massima priorità, però ho anche tante distrazioni, tanti piccoli sbattimenti, tante piccole attività che mi portano via tempo. Ma sono cose a cui ho tempo, non dovrei dedicarsene per niente. Quindi nel mio caso sto lavorando per iniziare a delegare, costruire, ampliare ancora di più il mio team per veramente estranearmi da tutte queste cose inutili e dedicare l'attenzione a ciò che conta davvero. Nel tuo caso dovresti fare lo stesso, iniziare ad analizzare su come hai investito il tuo tempo e agire di conseguenza. Quindi prenditi qualche minuto oppure inizia a tracciare ciò che fai durante le giornate. Quindi dove dedichi tempo, quali sono le cose importanti a cui dovresti dedicare attenzione e renditi conto se effettivamente lo fai e se non lo fai scopri dove stai investendo il tuo tempo perché ti accorgerai che ne stai buttando via veramente tantissimo ed è assolutamente un peccato mortale. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, è normale, succede a tutti, però nel momento che iniziamo ad analizzare e a capire dove investiamo il nostro tempo possiamo iniziare a fare anche degli aggiustamenti. Altrimenti le giornate continueranno a scorrere, passeranno i giorni, le settimane, i mesi e in alcuni casi gli anni e saremo sempre allo stesso punto, avremo la sensazione che la nostra vita stia scivolando via e noi non ne siamo assolutamente padroni. Ti assicuro che è una sensazione bruttissima perché io l'ho vissuta per anni. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!